Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6. Iniziamo con la cronaca, si dice estranea ad ogni contestazione e stupita per aver appreso di essere indagata dalla stampa. Stefania Pezzopane, senatrice aquilana dell'EPD, sarebbe accusata dalla procura di Avezzano di finanziamento illecito ai partiti ad accusarla. Le rivelazioni dell'imprenditore Frusinate, Angelo Capogna, in servizio. Sono totalmente estranea ai contenuti delle dichiarazioni che, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa e dai giornali, l'imprenditore Angelo Capogna avrebbe rilasciato agli inquirenti e la dichiarazione di Stefania Pezzopane, senatrice del Partito Democratico, coinvolta in una inchiesta giudiziaria relativa alla ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Ho saputo che sarei indagata dai giornalisti, ha aggiunto, che mi hanno chiamata per chiedere spiegazioni, ma non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Confido, come sempre, nella magistratura che sono certa farà luce su questa oscura vicenda e arriverà alle giuste conclusioni. La Pezzopane ha tenuto a precisare che smentisce con forza quanto avrebbe detto Capogna ai magistrati e avrebbe letto sulla stampa, sottolineando come queste notizie emergano in piena campagna elettorale per le amministrative di giugno all'Aquila ed Avezzano, una tempistica, continua ancora la Pezzopane, che insospettisce su un uso strumentale di queste accuse. Al centro dell'indagine della procura di Avezzano ci sarebbe una presunta associazione per delinquere su un giro d'appalti in alcuni comuni della Marsica, che vedrebbe anche un possibile caso di finanziamento illecito ai partiti. Angelo Capogna, originario delle Frusinate, è l'amministratore della Sari 2 SRL, che avrebbe gestito la pubblica illuminazione in numerosi comuni della Marsica. L'uomo avrebbe raccontato agli investigatori della squadra mobile aquilana di due consegne di denaro, entrambe da 5.000 euro, a Stefania Pezzopane, avvenute durante le elezioni alla provincia dell'Aquila nel 2010, quando la senatrice ricopriva la carica di presidente dell'ente. La prima d'azione, stando al racconto trascritto dagli investigatori, sarebbe avvenuta all'interno della sede elettorale, la seconda invece negli uffici container, il periodo era quello post-terremoto dell'Aquila del 2009, d'azioni entrambe alla presenza di testimoni. La senatrice aquilana è indagata dalla procura di Avezzano per finanziamento illecito ai partiti. Con la richiesta di rinvio a giudizio per disastro colposo per 21 persone, responsabili tecnici e amministrativi di Snam e Rete Gas, la procura di Teramo mette un primo punto fermo nell'inchiesta sull'esplosione di un tratto del metanodotto Ravenna Chieti avvenuta a Pineto, in provincia di Teramo, il 6 marzo del 2015, che causò ingenti danni ad abitazioni, auto, coltivazioni e a un'intera area boschiva. Nel corso di una lunga e minuziosa indagine, investigatori e inquirenti hanno analizzato tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa a progettazione, posa in opera, manutenzione e monitoraggio del tratto di metanodotto esploso, della sovrastante rete elettrica e delle abitazioni interessate dall'evento. A un collegio di esperti sono stati affidati gli accertamenti tecnici volti a verificare se all'origine del disastro ci fossero esclusivamente fenomeni naturali o condotte negligenti da parte delle relative società. A seguito di tali accertamenti la procura aveva chiesto l'archiviazione per metà degli indagati, tutti riconducibili a Enel e SNAM SPA, a carico dei quali erano state ravvistate responsabilità. Adesso arriva la richiesta di rinvio a giudizio per 21 dipendenti di SNAM Rete Gas, sulla cui posizione adesso sarà chiamato ad esprimersi il GUP. Il Forum Abruzzese dell'Acqua parla di obiettivi non raggiunti, sottolineando come il 71% dei fiumi e il 52% dei corpi idrici sotterranei non arriva a toccare gli standard previsti con dati in peggioramento, secondo le analisi dell'Arta. Il servizio di Paolo Renzetti. Decine di migliaia di dati dell'Arta che restituiscono uno stato inaccettabile della risorsa acqua e il dossier intitolato Acqua in Abruzzo 2017, i dati e le ragioni del fallimento curato dal Forum Abruzzese dell'Acqua, che dati alla mano su inquinanti in fiume falde rilevati in centinaia di punti critici delle quattro province, chiede alle istituzioni e in particolare a Regione Abruzzo di fermare ulteriori progetti impattanti, moltiplicare gli investimenti e copiare le buone pratiche altrui. Il rapporto riassume e rielabora le norme dati messi a disposizione dall'Agenzia regionale per il territorio e l'ambiente raccolti negli ultimi anni per tutti i corsi d'acqua abruzzese e per le acque sotterranee. Il quadro che viene rappresentato, dice il Forum, è drammatico con numerosissimi e diffusi casi di inquinamento delle acque sotterranee per nitrati, ione ammonio e solventi clorurati. Inoltre la stragrande maggioranza dei fiumi non rispetta gli obiettivi di qualità fissati dall'Unione Europea. Abbiamo avuto 15 anni per metterci in regola. Arriviamo a questo appuntamento del 2015 con, ormai superato, con il 71% dei fiumi che non rispetta l'obiettivo di qualità e il 52% dei corpi idrici sotterranei, c'è l'acqua di falda, cioè praticamente una situazione esplosa. Ora c'è bisogno di cambiare rotta. Il caso del Gran Sasso, peraltro un ulteriore allarme su un corpo idrico sotterraneo, cioè su un acquifero fondamentale come quello del Gran Sasso che dà acqua a tre province. Ora bisogna cambiare rotta come? Intanto la Regione Abruzzo è inadempiente dal 2006 per i vincoli sulle aree di ricarica delle falde. Non si può continuare a mettere cave, impianti industriali sopra le zone che sono importanti per ricostituire le falde acquifere e non per inquinarle. La Regione Abruzzo, un po' come la carta delle valanghe per Ricopiano, è inadempiente da più di un decennio. Quindi bisogna colmare questo vuoto normativo, ma poi bisogna attuare delle politiche di risanamento dei fiumi, intanto togliere le discariche lungo i fiumi che ormai stanno diventando un'emergenza e sono già un'emergenza. Poi bisogna rinaturalizzare i fiumi con le fasce ripariali, cioè la vegetazione deve poter stare lungo le sponde perché sono un filtro molto importante per gli inquinanti e poi cambiare anche metodi di agricoltura e lasciare più acqua nei fiumi dalle captazioni a scopo idroelettrico. Maurizio Di Nicola, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Abruzzo, annuncia un calo del debito dell'ente. Numeri che escono fuori dai riaccertamenti. Il servizio. Ogni tanto una gioia per i conti economici rosso della Regione Abruzzo. La montagna del disavanzo, ad oggi calcolata sui 721 milioni di euro, è infatti destinata ad abbassarsi a 650 milioni. Ad annunciarlo il Presidente della prima Commissione Bilancio, Maurizio Di Nicola, riferendosi i numeri che stanno uscendo fuori dal riaccertamento contabile dell'annualità 2015 che la Regione sta effettuando obbligata dalla legge a recuperare il tempo perduto sotto l'occhiuto controllo della Corte dei Conti. Il timore era invece che con i riaccertamenti, ad oggi solo quello del 2013, è stato completato, il conto del disavanzo poteva crescere ancora di più e con esso le rate del rientro ad oggi di circa 60 milioni di euro l'anno sul gruppone dei cittadini e contribuenti. Gli uffici e i dirigenti di settore ci hanno rassicurato da questo punto di vista, ma anche perché, francamente, attingendo alla mia esperienza professionale di avvocato, quando ci sono creditori alla porta che chiedono non lo si viene a scoprire dal riaccertamento dei conti, lo si scopre dalle richieste che arrivano di pagamento. Non mi risultano, rispetto alla Regione Abruzzo, richieste importanti di pagamento, quindi penso che questa attività di pulizia dei conti del bilancio non possa produrre ulteriori spese nascoste. Semmai può produrre, a mio avviso, dei risparmi in qualche modo, proprio perché a volte lasciando le poste contabili indietro nella gestione può capitare che delle risorse si nascondano, ma come risorse da spendere, non come appunto costi da sostenere. Certo, tiene a precisare Di Nicola, il risanamento è ancora lungi dall'essere completato e dunque il bilancio resta rigido, sciali non sono ammessi e le risorse vanno utilizzate in primis per le compartecipazioni ai fondi europei. Ma io credo che in questo momento sia difficile pensare ad una evidenza di questo tipo. Quello che la Regione Abruzzo doveva e deve garantire è la compartecipazione ai fondi comunitari per consentire la spesa dei fondi comunitari. Quella dei fondi europei è la migliore risorsa che possiamo mettere in campo a favore della comunità degli abruzzesi e la Regione Abruzzo ha trovato le quote necessarie. Dopodiché la contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato, che ha interessato i settori del sociale, il settore dei trasporti, ci impone una oculata gestione del bilancio, proprio al fine di non dover gravare con ulteriori imposte i nostri contribuenti regionali. Questo è l'indirizzo che ci siamo dati come maggioranza di governo e che intendiamo proseguire. Il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, sollecita i comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso a completare le procedure di sproprio per le aree dove dovranno sorgere i villaggi SAE soluzioni abitative in emergenza. Maggio rappresenta la linea di demarcazione fra la possibilità di avere le casette realizzate entro settembre o mancare l'appuntamento prima dell'inizio della stagione invernale. Ha spiegato il Presidente che ieri sera ha partecipato a Roma ad una riunione operativa convocata dal capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Sono 13 comuni abruzzesi ricadenti nel cratere sismico. Nella riunione sia Curcio che D'Alfonso hanno ritenuto necessario intensificare la sensibilizzazione sui comuni perché provvedono al più presto a completare le procedure di esproprio per le aree dove dovranno sorgere i villaggi SAE. I lavoratori del Cotir di Vasto, il centro di ricerca e sperimentazione di tecniche irrigue, sono tornati nuovamente sul tetto della struttura di Zimarino per protestare contro la scelta di Regione Abruzzo di tenere aperto solo il Crab di Avezzano, il consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia. I 27 ricercatori sono senza stipendio da due anni e mezzo ed ora anche senza speranza di rilancio della struttura. Vogliamo che queste risposte ci vengano date di persona da chi di dovere, dall'assessore, dai commissari liquidatori che devono venirci ad affrontare di persona e dirci chiaramente qual è questo progetto di morte per un centro di ricerca che è nel Vastese, un territorio oramai terra di nessuno e abbandonato da tutti. Noi ci troviamo nella condizione di non essere elegibili per i progetti, quindi è inutile chiederci di progettare, ma le società in liquidazione, gli enti in liquidazione non sono elegibili per i progetti, quindi siamo messi nelle condizioni di non poter far nulla e non far nulla in un triennio significa aver aumentato anche questo indebitamento che da circa 300 mila euro è arrivato a più di 2 milioni e mezzo di debiti, 2 milioni e mezzo di debiti ma di stipendi dei lavoratori che continuano a venire al Cotir perché sono circa 28 le mensilità di arretrato. Non c'è una proposta, non c'è nulla. Io penso che i commissari che sono stati chiamati a gestire questa fase straordinaria a cui sono stati dati ambipoteri, sapevano benissimo quali erano le entrate di questo ente e a quante persone potevano corrispondere gli stipendi con le entrate che avevano. Loro hanno tenuto qui tutto il personale, non hanno pagato lo stipendio a nessuno dal loro insediamento e quindi ci attendiamo da loro delle spiegazioni. Come ci attendiamo delle spiegazioni sul perché non si sono concretizzati i rapporti con le multinazionali private che erano interessate a questa struttura? 27 lavoratori, 27 famiglie non possono essere lasciati in queste condizioni. Io sono sicuro che l'assessore lavora in questa direzione in queste ore e mi auguro che lui possa venire qui a dire qual è il punto di vista della regione Abruzzo perché, ripeto, ci troviamo da fronte a una situazione che al delà delle mura, al delà di quello che significa il cotire, parliamo soprattutto di persone in carne e ossa. Regalare uno smartphone ad un preadolescente è come dargli una Ferrari ma senza la patente. Al Lanciano Paolo Picchio, papà di Carolina, morta suicida a 14 anni, vittima di cyberbullismo, incontro ai giovani studenti della scuola media. Vediamo il servizio. Regalare uno smartphone a un preadolescente è come dargli una Ferrari ma senza la patente. Non usa mezzi termini Paolo Picchio quando si rivolge ai giovani studenti della scuola media Umberto I di Lanciano per raccontare il primo caso di vittima in Italia per cyberbullismo. La vittima era sua figlia Carolina, morta suicida nel 2013 a 14 anni per colpa di 5 coetanei e un maggiorenne. Per i primi la giustizia ha deciso la messa in prova ai servizi sociali, per l'unico maggiorenne del gruppo una condanna di un anno e quattro mesi. Insomma la rivoluzione digitale colpisce i più deboli e quanti non sono preparati ad affrontare le insidie che si cedano in rete. Genitori e insegnanti sono chiamati a fungere da sentinelle perché c'è un nuovo pericolo in più che a volte può diventare mortale. I ragazzi, avverte Paolo Picchio, non si rendono conto che il web è reale come la vita. Picchio adesso in Italia sta organizzando il primo centro con psicologi e pedagogisti che si occupano di sconfiggere il cyberbullismo. Riprendere il colloquio e dare l'esempio perché purtroppo oggi sempre di più i genitori utilizzano lo smartphone come il babysitter digitale e questo è un gravissimo errore perché il ragazzo oltretutto, i genitori sono ignari che attraverso lo smartphone anche il bambino di cinque anni ha accesso a siti che neanche sono immaginabili. E poi il fatto che se vede che qualsiasi sintomo di variazione dell'umore dei ragazzi è una sentinella d'allarme che va immediatamente capita e quindi incominciare a parlarne anche se il ragazzo non vuole, ma a cercare di indagare e se non si riesce portarlo da uno psicologo perché è importantissimo quello che dico sempre che questi segnali non decadano in una patologia che poi è gravissima perché il ragazzo tenta isolarsi. Ed ora a Pescara i gruppi in Consiglio Comunale di Pescara in testa e Pescara Futura tornano a ribadire la loro contrarietà al mercatino etnico. Piennesima brutta figura dell'amministrazione comunale perché cosa è successo? Noi abbiamo chiesto ai revisori dei conti se quella delibera era legittima o meno in quanto c'era un importo che si riferiva all'anno 2017 invece era stato anticipato all'anno 2016 nella delibera. È chiaro che quella delibera è illegittima, i revisori dei conti lo hanno confermato, hanno detto che quella delibera dovrà essere riproposta perché non ha i piedi per camminare. Al di là degli aspetti politici e sostanziali legati alla collocazione del mercatino all'interno del sottorilato ferroviario su cui abbiamo già detto tutto in maniera puntuale, oggi osserviamo che questa amministrazione conferma la sua incapacità amministrativa, cioè non riesce a fare atti amministrativi che abbiano i piedi per camminare, atti amministrativi legittimi. Evidentemente consolida una tradizione oramai di improvvisazione che continua dall'inizio della consigliatura e che penso si concluderà soltanto alla fine della consigliatura quando questa amministrazione sarà mandata a casa dai cittadini di Pescara. I senegalesi ambulanti che esercino l'attività di ambulante devono essere collocati nei mercati rionali come avviene per tutti i cittadini pescaresi, per tutti quelli che affrontano ogni giorno l'attività di ambulante, lo fanno con licenze, con autorizzazioni, con situazioni già ben definite. Oggi invece noi affidiamo all'Arci uno spazio che poi a sua volta verrà assegnato ai senegalesi con priorità. Ecco, questo è assolutamente illegittimo, lo abbiamo detto e lo continuiamo a sostenere. All'Aquila si è svolto un convegno in cui si è affrontato il tema dell'uscita dall'euro dell'Italia, un'uscita, dicono che è possibile con il ritorno alla lira. Sostenibilità dal punto di vista economico e politico del fiscal compact che imporrà all'Italia il rientro forzoso dal debito, ipotesi dell'uscita dall'euro che non può essere considerato un tabù e che per paesi come l'Italia, con questa Europa a trazione tedesca in mano a banchieri e burocrati, potrebbe rappresentare la soluzione più razionale, anche perché non sarebbe affatto l'armageddon finale. Questi ed altri temi del convegno Italexit, organizzato dal quotidiano online Abruzzo Web, che ha visto protagonisti all'Aquila Marco Zanni, ero parlamentare, Lorenzo Esposito, funzionario della Banca d'Italia, Stefano Silos Dabbini, promotore della proposta dei certificati di credito fiscale, Giuseppe Palma, giurista e scrittore, e l'economista Massimo Pivetti. Possibilissimo uscire dall'euro, noi abbiamo il nostro debito pubblico che per il 96% circa è regolato ancora da giurisdizione nazionale, benché sia espresso in euro e ancora regolato da giurisdizione nazionale. C'è stato calcolato che la svalutazione della lira, che comunque sarebbe salvifica perché ci aiuterebbe ad aumentare le esportazioni, si aggirerebbe tra un minimo del 7% e un massimo del 15%, quindi una svalutazione della nuova lira assolutamente salvifica per le nostre esportazioni. Per quanto riguarda poi l'inflazione, l'inflazione la si può benissimo controllare attraverso la leva fiscale, per cui non vengano a spaventare la gente. Ritornando a moneta sovrana, l'Italia riuscirebbe di nuovo ad essere competitiva e soprattutto a creare occupazione, visto che abbiamo raggiunto un tasso di disoccupazione vicino al 12% che poi realmente significa 25%, visto per come è calcolato. Nel corso del convegno è stata poi lanciata una proposta concreta per uscire dalla morsa del rigorismo finanziario imposto da Bruxelles, quella dei certificati di credito fiscale da usare al posto dell'euro come una sorta di moneta complementare, attraverso una grande concertazione tra sistema produttivo, istituzioni e cittadini. Si tratta di emettere titoli fiscali, sconti fiscali a scadenza, quindi titoli pubblici denominati in euro che possono funzionare immediatamente come un mezzo di pagamento. Quindi in questo modo noi evitiamo di indebitarci sui mercati finanziari, non dobbiamo vendere titoli di debito per raccogliere euro con i quali finanziare l'espansione della spesa, ma noi mettiamo questi titoli fiscali che hanno anche la possibilità di funzionare come mezzo di pagamento. Presentato a Pescara, Palazzo di Città, Greenways Danunziane, un progetto diretto a visitatori della riserva con disabilità e che consentirà una più ampia fruibilità dell'area verde alle utenze più sensibili e a tutti di avvicinarsi ancora di più anche ai tesori naturalistici della riserva. Assessore Marcheggiani, vogliamo spiegare cos'è questa Greenway della riserva Danunziana? È un progetto innovatore che ha come parola chiave l'inclusività, perché sono previste delle vie verdi, Greenways Danunziane, delle vie verdi sia ciclabili che pedonali. è bello perché nelle vie pedonali sono inseriti anche dei percorsi per le persone più sfortunate di noi che non sono dotati di una mobilità eccellente o anche per difetti sensoriali. In questo progetto si acquistano dei tricicli che possono essere guidati anche da queste persone e che quindi nella più totale tranquillità possono percorrere e sentirsi avvolti dalla bellezza della nostra riserva. Inoltre parlavo di inclusività perché oltre a pensare alle persone meno fortunate di noi abbiamo anche una serie di piste ciclabili che poi si vanno a riconnettere con la Bike to Coast per cui c'è una inclusione della nostra riserva anche dal punto di vista turistico per tutto quello che sarà il cicloturismo che sta in grande espansione a livello nazionale e quindi ci ricolleghiamo alla pista ciclabile a del verde dell'Adriatico. L'Abruzzo è tra i maggiori produttori di tartufo in Italia ma il suo nome non è mai legato alla sua commercializzazione. Ebbene il 2 giugno a Catignano in provincia di Pescara ci sarà un evento interamente dedicato al tartufo. Molte persone non sanno che l'Abruzzo ha una dotazione straordinaria di tartufo che serve anche a altre regioni molto più blasonate in questo settore. Per farlo, per far capire quanto sia importante questa produzione di tartufo ci sarà una rassegna a Catignano il 2 giugno. È un percorso del gusto ma non solo un percorso del gusto, noi abbiamo in mente di far visitare in una giornata tutte le bellezze che ci sono nel nostro territorio, dalle vecchie fontane alla basia di San Bartolomeo di Carpineto o che so io, altre bellezze che abbiamo lungo il percorso della via del tartufo che parte appunto da Catignano. E vogliamo nello stesso tempo poi approfittare per far assaggiare anche tutti i prodotti tipici del territorio, quindi dal vino biodinamico all'olio extravergine di oliva d'oppe e al tartufo naturalmente che è il protagonista di questa giornata del 2 giugno. Vi potremo anche accompagnare a visitare questi luoghi e poi fermarci a mangiare in un ristorante della zona il tartufo nero pregiato da Abruzzo. Tra l'altro il tartufo che viene venduto anche in Piemonte ad esempio. Il nostro tartufo purtroppo non viene commercializzato in Abruzzo ma viene venduto alle altre regioni, il 90% della produzione nostra va a finire sulle tavole dei piemontesi o dei milanesi e noi purtroppo come raccoglitore, sono anch'io un modesto raccoglitore, abbiamo un ricavo marginale rispetto a quello che poi è il prezzo finale di mercato del tartufo, specialmente quello bianco. Le pagine dello sport, il Pescara prepara l'ultima gara stagionale casalinga di lunedì prossimo con una amichevole prevista per domani pomeriggio a Pescina contro l'unico Sano Fondi ma è già il momento di pianificare la prossima Serie B il servizio. Seduta al mattino per il Pescara che domani proseguirà la preparazione verso l'ultima gara casalinga stagionale con l'amichevole del Barbati di Pescina contro l'unico Sano Fondi con pagina che ha appena concluso la sua stagione di Lega Pro con l'eliminazione del primo turno di playoff ad opera della Virtus Franca Villa. Per il match di lunedì all'Adriatico Cornacchia contro il Palermo Zeman sarà ancora privo dello squalificato Benalì mentre sono da valutare le condizioni di Bovo alle prese con un affaticamento muscolare così come sono anche da valutare le possibilità di impiegare dal primo minuto Gilardino che proprio col Palermo un anno fa centrava una salvezza a un certo punto insperata. Sarà la partita tra le due retrocesse stagionali e il Delfino non ha più neanche il platonico obiettivo di evitare l'ultimo posto, oramai matematico. Al di là dell'impiego da titolare o dalla panchina di Gilardino sarà interessante capire se potrà far parte o no del futuro targato Zeman nel prossimo campionato di Serie B. Il bomber potrebbe essere guidato dalla voglia di dimostrare a Pescara di non essere un giocatore finito riscattandosi dalle problematiche di natura fisica di questa stagione. Anche il Boemo, parlando in generale, non ne fa una questione di età ma di propensione al lavoro duro, al sacrificio, alla volontà di seguirlo nelle sue metodologie di lavoro. Soprattutto Zeman dovrà chiarire se il Gila fa il caso del suo sistema di gioco o no. Intanto il Pescara continua a mettere in evidenza il gioiellino Coulibaly che interessa molto alla Juve. Prova ne sia quanto accaduto nelle ultime ore. Questa mattina infatti il presidente Sebastiani e il club manager Pepe sono stati a Roma nel quartier generale della Juventus che attende la finale di Coppa Italia con la Lazio e lì hanno incontrato il DS bianconero Fabio Paratici. Pur restando in rival adriatico, il talento senegalese potrebbe essere utilizzato per ottenere dal club bianconero alcuni giovani di interesse come Riccardo Orsolini, fresco di salvezza con Lascoli. Andranno via i veterani Coda e Stendardo, mentre per Campagnaro salta fuori l'ipotesi di un contratto a gettone per cautelarsi degli infortuni che attanagliano il difensore argentino che poi quando è in campo è una sicurezza. Zampano e Biraghi andranno via solo in caso di importanti offerte. Intanto fa già sognare Leonardo Mancuso che con una doppietta ha trascinato la San Benedettese al passaggio del primo turno di playoff in Lega Pro ed ora se la vedrà con il Lecce agli ottavi di finale. Proseguiamo con la Lega Pro, doppia seduta odierna per il Teramo al Bonolis. La squadra si allenerà nell'impianto Teramano anche domani pomeriggio, mentre venerdì mattina la squadra partirà verso il ritiro in una sede intermedia in vista del playoff di andata a Lumezzane. La gara sarà diretta da Viotti di Tivoli. Indossa i panni dell'ex l'attaccante Riccardo Barbuti che in conferenza si è mostrato fiducioso e ha parlato con toni decisi. O Forlì o Lumezzane. Il Fano là secondo me è campo piccolo, abbiamo avuto difficoltà anche nella partita di ritorno contro di loro perché sia un campo piccolo, loro sono fisici. Quindi secondo me ci è capitata la squadra giusta ad affrontare. Quindi andiamo là facendo la partita consapevoli che se vinciamo la prima poi abbiamo molte più possibilità di salvarci. A Lumezzane, a parte che a gennaio secondo me si è indebolito tanto, però comunque secondo me resta una squadra tosta che corre molto e che fa dell'aggressività e dell'intensità la sua arma migliore. difficoltà ne hanno avute perché si sono lì e ne hanno avute e noi cerchiamo di lavorare soprattutto sulle loro difficoltà. E niente, questa partita secondo me è una partita un po' a parte, nel senso che ci si gioca tutto, è una partita dove ci si gioca il contratto dell'anno prossimo e quindi è una partita vita o morte secondo me. Se vissi segnare, secondo me, infatti per Scaramanzieme le non dico niente, però secondo me la gioia è incontenibile. Il fattore campo ovviamente non è una piazza calda come quella di Teramo, quindi secondo me non possiamo neanche pensarci al fatto che ci possa distrarre il loro fattore campo. Noi dobbiamo entrare in campo pensando, non pensando di avere due risultati su tre, facendo la partita, cattivi perché, ripeto, ci si gioca il futuro. A meno parlo per me stesso ma anche per i miei compagni, io non me lo posso permettere di restare svincolato l'anno prossimo, quindi la vita o la morte. Per il rugby l'Aquila è in finale contro i Medici di Firenze dopo aver superato nella doppia semifinale il Valsugana. In una caldissima domenica di giugno l'Aquila Rugby Club si impone a Padova sul Valsugana per 33-21, aggiudicandosi il passaggio in finale con i Medici e i domenica 21 maggio in campo neutro ancora da definirsi. La partita per gli Aquilani inizia nel piggiore dei modi, subendo nei primi sei minuti due mete ad opera di Beraldin e Caporello, trasformate dal piede preciso di Roden. Grazie ad un passaggio di Montivero Carnicelli va in meta, ma Cozzi non trasforma e dopo pochi minuti Beraldin marca di nuovo per i Bianco Celesti, chiudendo il primo tempo 21-5, con il Valsugana a distanza dal bonus offensivo di una sola meta. Ma il secondo tempo è tutt'altra partita e si apre nel migliore dei modi. I nero-verdi sembrano aver riacquistato lucidità, alzando il ritmo di gioco ed imponendosi in mischia. Al 53esimo minuto Nicola Rettagliata mette a segno una meta, seguita da una meta tecnica scaturita da mischia sui 22 dei padroni di casa. Nicolo Speranza, fra migliori in campo, è l'autore della quarta meta, quella del bonus, che a prescindere dal risultato finale del match in corso, dà l'Aquila di diritto l'accesso in finale. L'entusiasmo è alle stelle, prima della fine della partita c'è in modo di concretizzare un'ultima meta degli aquilani ad opera di Carlo Cerasoli. Una squadra giovane, quella nero-verde, con un'età media che uscilla intorno ai 22 anni, nonostante le difficoltà incontrate nel corso del campionato, ha saputo destreggiarsi con carattere tenacia, emozionando i tifosi. Giorgio Piazza, capitano della Valsugana, come vi sono sembrati l'Aquila Reby Club come squadra? Unita, con molta voglia di vincere, di giocare e di portare a casa il risultato, questo sicuramente. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.